Il valore più importante per chi fa questo mestiere, secondo me, è la conoscenza. La nostra storia inizia in una salumeria, dal 1978, perché mio marito con richiesta dei clienti nell'inventare una conserva al momento, una signora aveva una cena alla sera e lui vendava un pesto, venivamo in campagna tutti i giorni, mamma come si fanno le melenzane, mamma come si fanno i pomodori secchi, e da lì è nata la nostra storia nel fare le conserve. Le signore arrivano in laboratorio alle 7 del mattino e iniziano con la pulizia di tutte le verdure fresche. Deve essere un prodotto naturale, andando alla base, alla base deve essere un pomodoro di altissima qualità, che viene pulito, tagliato e lavato, e poi viene messo in pentola con degli aromi. Ci vuole un buonissimo basilico, dell'olio extravergine di oliva di altissima qualità, un po' di aglio, della cipolla e della cottura. Non basta altro, è un pizzico d'amore per fare le cose, e basta. Faccio l'installumiere da oltre 35 anni, che porta avanti la mia azienda con orgoglio, e faccio conoscere bene o male i sapori e i gusti siciliani del mondo. Con Artimondo diamo la possibilità alle persone di acquistare attraverso i siti della fiera, attraverso il loro portale, e quindi diamo un servizio in più al cliente. Ma la responsabilità più grande è il piatto finale, quando il cliente mette il formaggio, il salume, il tagliare che prepari, la conserva che prepari, la mangia. Quella è la vera responsabilità finale. Quando tu c'hai un mestiere dentro, lo devi solo trasmettere in quello che fai. I nostri clienti cercano soprattutto la qualità, e quella la trovano. Infatti le soddisfazioni sono immense. Sono loro che ti danno la forza di andare avanti, di inventare nuovi prodotti, perché loro ti danno lo stimolo. Grazie.